Sì, buone bella, ci giri nella mia, ci pone bella, ci giri nella mia, ci pone bella. Sindaco Veltri, siamo qui nella sua città Belmonte Calabro per la 47esima edizione della Basta dei Zitti. Salve, buonasera, come diceva questa sera c'è la 47esima edizione della Sagra della Basta dei Zitti, tradizione di questo comune che portiamo avanti nel tempo e che vuole rievocare quella che era la tradizione di una volta che rappresentava il pranzo dei matrimoni che si usava a fare in quel periodo. Un pranzo povero ma ricco, pieno di armonia e d'allegria contornato da tanta gente. Questa sera ovviamente abbiamo il pienone per questi sapori tradizionali, allietato anche da un gruppo flor coristico che alliederà la serata. Io spero che questa sagra possa essere sempre di più estesa anche in altre occasioni e che possa, come dire, rievocare in un modo quasi trascendentale quello che erano le tradizioni di una volta. C'è tanto impegno dietro, c'è tanto lavoro. Sembra che sia, come dire, una sagra di poco conto dal punto di vista organizzativo. Invece c'è tanto lavoro, ci sono mesi e mesi di organizzazione, di ricerca dei prodotti tradizionali, ma anche dei prodotti biologici e dei prodotti calabresi. Questo è uno degli obiettivi che la Proloco di Belmonte Calabro ha sempre fissato e noi come amministrazione diciamo che la supportiamo in tutto questo. Grazie a tutti gli intervenuti, grazie alla Proloco per mantenere viva questa tradizione e grazie a voi per essere qua presenti e mandare in onta queste che sono le nostre tradizioni e la nostra cultura anche di natura contadina. Grazie. 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 Grazie.